Allora, buongiorno, benvenuti a questa lezione di programmazione d'oggetti in cui tratteremo l'argomento degli array. Che cosa sono gli array? Gli array sostanzialmente sono una struttura dati che utilizziamo in tantissimi linguaggi e definiscono una serie ordinata di variabili, di valori, a cui è possibile accedere tramite un indice. In generale, in Java, gli array possono contenere sia tipi primitivi, ad esempio degli int, che riferimenti agli oggetti, ad esempio delle stringhe. Non contengono direttamente degli oggetti, ma esclusivamente dei riferimenti. Le dimensioni degli array possono essere definite in fase di esecuzione nel momento in cui viene creato l'oggetto di tipo array e non possono essere cambiate successivamente. Gli array possono essere dichiarati in Java usando due sintassi alternative. Sostanzialmente abbiamo una sintassi più stile Java, quindi int quadre a, e una sintassi più in stile c, quindi int a quadre. La cosa fondamentale da ricordare per quanto riguarda gli array in Java è che gli array sono sostanzialmente degli oggetti, per cui sono memorizzati nella memoria dinamica, nel RIP, e possiamo accedere agli array tramite un riferimento. Quindi una dichiarazione di questo tipo, tutte e due sono valide in Java, sostanzialmente definisce un riferimento a un oggetto di tipo array, senza aver creato l'array effettivo. Per cui, per creare l'oggetto array effettivo, quello che dobbiamo fare sostanzialmente, come per tutti gli oggetti, è andare ad utilizzare l'operatore new. Quindi, dopo aver dichiarato un array A, possiamo andare a crearlo con new int e, in questo caso, non usiamo un costruttore normale, ma andiamo a passare al tipo di elementi che vogliamo creare, tra parentesi quadre, la dimensione. Questa dimensione viene definita quindi nel momento in cui vado a creare l'oggetto array. In maniera analoga, se io voglio andare a creare un array di string, è dichiarato in questo modo, quindi string quadre S, uguale new string di 5. Questo sostanzialmente mi crea un array di 5 riferimenti a string. Oltre a queste inizializzazioni standard, che creano sostanzialmente degli array vuoti, è possibile utilizzare quella che si chiama l'inizializzazione statica, per cui io posso andare a dire int quadre primes, quindi definisce un array di interi, e poi vado a elencare gli elementi, tra parentesi graffe. La dimensione dell'array viene dedotta dal numero di elementi che viene inserito, tra parentesi quadre. L'inizializzazione statica può essere fatta per i numeri, per le variabili primitive, ma anche per gli oggetti, quindi posso andare a dire che un array di persone P è uguale a aperta quadra new person, virgola, new person, eccetera, eccetera. Anche in questo caso la dimensione dell'array viene sostanzialmente dedotta dal compilatore in base al numero di elementi che viene riportato tra parentesi graffe. Vediamo meglio come funziona l'allocazione degli array e la loro disposizione in memoria. iniziamo dall'esempio più semplice e quindi iniziamo dalla dichiarazione di una variabile a che ha come tipo array di interi. Array di interi, quindi questo int quadre, sostanzialmente è come fosse il nome di una classe. Quello è un tipo specifico per cui esisterà un oggetto array di interi che verrà generato in memoria. Ovviamente non in questa fase, in questa fase abbiamo semplicemente il riferimento, che inizialmente probabilmente sarà nullo, e nulla nella memoria dinamica. Nella memoria dinamica iniziamo a creare l'array quando andiamo a utilizzare l'operatore new. Quindi new int di 6 sostanzialmente crea un oggetto di tipo array di interi con sei elementi e quindi i sei elementi vengono memorizzati nella memoria dinamica. In maniera analoga io posso inizializzare utilizzando quella che è l'inizializzazione statica e in questo caso immediatamente questa dichiarazione va a creare un array di elementi tutti inizializzati come elencato in questo caso, a differenza di come di quanto avviene quando io crea un array senza specificare alcuna inizializzazione. In questo caso tutti gli elementi del mio oggetto array interi vengono inizializzati al loro valore di default. Quindi è come se i sei elementi indicati qua del mio oggetto fossero effettivamente sei attributi. Quindi come i costruttori inizializzano tutti gli attributi di un oggetto al loro valore di default, che è zero per i valori numerici, così quando io vado a creare un array il costruttore di questo array inizializza tutti gli elementi al loro valore di default, zero per i valori numerici. Vediamo cosa avviene nel caso in cui gli array non siano di tipi primitivi ma siano di classi. String quadra s definisce un array di stringhe, quindi un nuovo tipo che è array di stringhe, uguale new stringhe di 6. Quindi che cosa avviene fatto? Viene creato in memoria un array che contiene sei elementi che sono sei elementi equivalenti a variabili tipo stringa, quindi sono sostanzialmente sei riferimenti a stringa. e vengono automaticamente inizializzati al loro valore di default, che è ovviamente null. Quindi se noi abbiamo un oggetto di una classe che prevede sei attributi tipo stringa, quando creiamo quell'oggetto automaticamente i sei attributi vengono inizializzati a null. Nel caso del array di stringhe è esattamente la stessa cosa, solo che il vantaggio è che in questo caso noi possiamo accedere alle sei attributi dell'oggetto utilizzando un indice. Nel momento in cui vogliamo andare a definire un elemento, possiamo andare a dire sd1 uguale new string abcd. Quindi string abcd sostanzialmente mi crea un oggetto stringa nello heap e quell'assegnazione mi mette nell'elemento con indice 1, quindi il secondo, visto che gli indici partono da 0 esattamente come in c, un riferimento a quell'oggetto stringa. Posso utilizzare l'inizializzazione statica anche per gli array di oggetti e quindi in questo caso P, che a cosa punterà? A un nuovo oggetto che è stato inizializzato con i riferimenti a questi particolari nuovi oggetti creati. Quando abbiamo a che fare con gli array, esattamente come in c, utilizziamo le quadre per accedere a un singolo elemento e quell'elemento a quel punto può essere semplicemente letto oppure scritto. A differenza di quanto avviene in c, però, gli oggetti, gli array, essendo degli oggetti, hanno la possibilità di avere altri attributi. In particolare, tutti gli oggetti di tipo array hanno un attributo che si chiama length, che ci dà la dimensione dell'array, ovvero il numero di elementi che sono stati allocati quando è stata fatta l'operazione di new dell'oggetto. Questo attributo è estremamente utile perché può essere utilizzato per andare a scrivere dei cicli, essendo sicuri di non eccedere il limite dell'array, cosa che normalmente rappresenta uno dei problemi principali quando andiamo a scrivere dei cicli sugli array in linguaggi come il C. Ricordatevi che gli array non sono dei puntatori al primo elemento, come abbiamo in C, quindi non c'entra nulla, sono degli oggetti, e quindi non funzionano l'aritmetica dei puntatori e vengono utilizzati in maniera effettivamente diversa, soprattutto nel dettaglio della sintassi, da quanto abbiamo in C. Gli array, oltre a poter essere scanditi con i soliti cicli for usando un indice numerico, possono essere scanditi utilizzando una nuova sintassi che è disponibile in Java e che si chiama il costrutto for each. Per cui la sintassi è simile a quella del ciclo for, solo che invece di andare a mettere inizializzazione, incremento, scusate, test e incremento, andiamo a mettere una dichiarazione di tipo, una variabile e l'insieme su cui andare a fare l'iterazione. Per cui, se voglio andare a iterare su un array di interi, andrò a mettere for int i due punti, l'array. Questa notazione è decisamente più compatta del ciclo utilizzando un indice e quindi è utilizzata molto spesso. Questo tipo di espressione può essere utilizzata sia sugli array che su classi che implementano un'interfaccia iterable, che vedremo poi più avanti perché capiremo come funziona correttamente. Cosa succede quando noi andiamo a fare una scrittura di questo tipo? Sostanzialmente il compilatore è in grado di generare in maniera automatica il codice, che normalmente usa l'indice, ma ovviamente il compilatore lo fa in maniera assolutamente corretta. Quindi, con questa scrittura, noi tendenzialmente non commettiamo alcun errore, siamo sicuri che non usciamo dagli indici specifici dell'array. Tanto per darvi un esempio, se io voglio andare a scandire un array di string che si chiama args, posso fare string arg due punti args. Quindi, a ogni iterazione, la variabile arg assumerà il valore di un nuovo elemento dell'array. Questo tipo di scrittura col forice è assolutamente equivalente a quest'altra scrittura in cui ho un indice che va da 0 alla lunghezza incrementato e in ogni iterazione vado a mettere nella variabile arg il valore dell'elemento iesimo dell'array args. Come vedete, la scrittura è decisamente più compatta, non dobbiamo andare a gestire degli indici che possono essere difficili da gestire e il compilatore genera del codice che sostanzialmente è ugualmente efficiente rispetto alla versione con gli indici. Ovviamente, esattamente come in C, abbiamo la possibilità di avere degli array multidimensionali che però, a differenza di quanto avviene in C, sono utilizzati in maniera molto più rara perché normalmente, noi avendo il concetto di oggetto come contenitore, gli array li utilizziamo come un tipo di dato molto di basso livello che viene utilizzato all'interno degli oggetti, più che come tipo di dato di primo livello. Per cui, ad esempio, noi possiamo andare a definire un array bidimensionale di persone, quindi person quadre quadre, quindi vuol dire che le dimensioni sono due, table uguale new person 2 3, quindi avremo un array di due righe e tre colonne che permette di andare a memorizzare dei riferimenti a oggetti persone. E poi possiamo utilizzare table 0 2 per indicare la prima riga e la terza colonna di questo array multidimensionale e andare a memorizzare il riferimento a una persona. Attenzione! Questa scrittura in realtà può essere spezzata in due, quindi è un array di oggetti, per cui, visto che le righe di fatto sono degli oggetti, non è necessario che tutte le righe della nostra matrice abbiano la stessa lunghezza. per cui non ho la necessità di andare a creare tutti gli elementi di una matrice. Io posso avere una struttura bidimensionale in cui le diverse righe hanno una lunghezza diversa, per cui, ad esempio, posso avere un int quadre quadre, triangle, che quindi è un array di interi, che può essere inizializzato in questo modo, quindi new int 3 e non dare nessuna informazione sulla seconda dimensione. Questo che cosa fa? Crea in memoria un array di tre elementi che sono riferimenti a array di interi. Quindi, a questo punto, con un ciclo come questo, vado a creare nella posizione iesima di questo array un riferimento, vado a copiare nella posizione iesima di questo array, un riferimento a un array di interi che ha come lunghezza i più 1. Quindi, la prima riga avrà un riferimento a un array che ha un'unica posizione, la seconda riga avrà un riferimento a un array che ha due elementi e la terza riga avrà un riferimento a un array che ha tre elementi. Questo mi dà una certa flessibilità, ma può dare adito a errori di programmazione. La cosa fondamentale da ricordare quando noi abbiamo a che fare con degli array è che, come possiamo vedere qua, la creazione di un array con il new sostanzialmente definisce un certo numero di elementi tutti inizializzati a null oppure a zero, se sono tipi primitivi. Quindi, newStringD6 non crea sei stringhe, ma crea sei riferimenti a stringa. Le stringhe non ci sono, le devo creare io esplicitamente dopo. Una volta che noi ci ricordiamo questo, buona parte degli errori di programmazione che vengono fatti con gli array è risolto. Quindi, oltre a creare l'oggetto array, devo creare anche i suoi elementi. Questo è il messaggio semplice da ricordare ogni volta che noi utilizziamo gli array. Quindi, con questo noi chiudiamo questa veloce panoramica sugli array in Java. Ovviamente è necessario che voi andiate a fare un po' di esercizi, che poi vi assegnerò, per, diciamo, familiarizzarvi con l'uso degli array in Java che ha alcune differenze significative rispetto a quello che, invece, normalmente avviene in C.